Grazie a tutti quelli che sono in sala, soprattutto e hanno resistito finora. Io sono qui a parlare perché da sempre mi occupo di pianificazione, ma anche credo per l'esperienza che ho avuto in Regione Toscana nel promuovere la legge regionale che poi è stata approvata come legge 65 2014, che è stata la prima in Italia forse a trattare operativamente anche il tema del consumo del suolo, quindi a non introdurre soltanto principi ma anche dispositivi concreti a questo riguardo e poi perché con il dispositivo del piano paesaggistico abbiamo ripreso, sempre in Toscana, abbiamo ripreso questo tema. Però oggi, stasera, dato il poco tempo a disposizione, cercherò soprattutto di trattare del titolo di questa sessione, i quadri legislativi e nuove priorità per il governo del territorio. Allora, i quadri legislativi. Innanzitutto, secondo me, dal mio osservatorio personale, diciamo, delle esperienze accumulate, tra l'altro insegno a Venezia, non in Toscana e frequento parecchio Piemonte per altre ragioni, mi sembra di poter dire che apparentemente, retoricamente, il contrasto, il tenimento del consumo di suolo è al centro di molte riflessioni, anche di molte proposte normative, di fatto c'è un quadro in forte mutamento, non solo per le nuove leggi, le nuove PDL, ma anche per le modifiche alle leggi regionali vigenti, che erode nel complesso, tende a erodere, ci sono sempre le eccezioni, la legge toscana da questo punto di vista è andata controcorrente, però nel complesso queste modifiche al quadro legislativo tendono a erodere gli impianti generali di governo del territorio che eravamo abituati a considerare in qualche modo dei riferimenti acquisiti, delle conquiste anche acquisite, lasciatemelo dire da pianificatrice, e sempre più spesso vengono introdotte delle eccezioni, delle eccezioni per delle procedure d'eccezione, per destinazione d'uso oppure per tipologia di procedura negoziale. Il fatto che, mi sembra di poter dire che sempre più, come dire, ci sono aspetti negoziabili, cioè la pianificazione in molti contesti si sta riducendo all'esito di negoziazioni, negoziazioni che non sempre, come dire, sono fatte con le verifiche che dovrebbero essere introdotte, no? Si diceva, qualcuno diceva addirittura il piano toscano, il piano paesaggistico toscano, per alcuni aspetti non considera gli aspetti ecosistemici. Se guardiamo il combinato disposto di tutte le norme, vi assicuro che le considerano i dispositivi operativi. Abbiamo delle legislazioni regionali che attualmente consentono agli accordi di programma di decidere, come dire, il destino di parti importanti del territorio con trasformazioni anche consistenti. In quel caso spesso non ci sono nemmeno le minime verifiche di valutazione richieste invece alle procedure di pianificazione. Ho l'impressione, si possa dire, che l'ipotesi di riforma del titolo quinto del referendum costituzionale non ha aiutato, lasciatemi dire, no? Nel senso che, a parte ciò che ha prodotto sulle province come istituzione, che sta ancora lì, non si capisce se è viva, se è morta, se c'è ancora qualcuno che ci labora alla pianificazione all'interno delle province, ma anche le regioni ne sono uscite dopo un periodo nel quale, come dire, l'autonomia regionale ha questo, la concorrenza, il ruolo di concorrenza delle regioni era stato messo fortemente in discussione, concorrenza nell'esercizio delle funzioni relative al governo del territorio, e quindi non si capiva bene quale fosse la prospettiva. Questa incertezza, appunto, non ha aiutato, anzi ha dato via libera, diciamo, alla demolizione un po' complessiva del sistema. E questa è la perdita, ha significato in molti contesti, la perdita dell'opportunità di considerare, appunto, il combinato disposto potenziale leggi regionali e piani paesaggistici in corso di redazione, che sono regionali, ancorché pianificati con lo Stato, come una straordinaria opportunità di affrontare questo tema anche del consumo di suolo dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo. Ricordo che oggi circa 15 regioni hanno sottoscritto un accordo con il MIBACT per la redazione del piano paesaggistico, e ce ne sono, diciamo, una decina che comunque sono in fase di redazione abbastanza avanzata. Quindi una messa a fuoco, forse, anche di questo aspetto, per quanto attiene, appunto, alle possibilità di affrontare il tema del consumo di suolo, sarebbe importante. Ecco, in questo contesto, come dire, che cosa significa la norma nazionale attualmente in discussione, o promuovere, appoggiare, premere, o meno, affinché questa norma vada avanti, o se ne faccia un'altra, eccetera. Da un certo punto di vista, ovviamente, sarebbe molto importante disporre di una norma nazionale. La paura, devo dire, è che vi siano dei compromessi, addirittura controproducenti, rispetto all'obiettivo. In parte, cioè, è già stato, non c'è mai fine al peggio, scusate. Da questo punto di vista, in effetti, il fatto di lavorare, invece, sul combinato disposto, norme regionali, piani regionali, al tempo stesso, su un monitoraggio e una comunicazione sempre più efficace a livello nazionale, perché quello che viene fuori da, anche l'incontro odierno, rispetto a quelli analoghi di qualche anno fa, da questo punto di vista, è un progresso molto, molto notevole nella capacità di monitorare e di comunicare in modo efficace alcuni dati sul consumo di suolo. Io credo che comunque sia una strategia da perseguire con convinzione, molto, molto importante. Anche perché questa legge, dibattito intorno a questa legge, in qualche modo sembra aver bloccato anche una serie di altre iniziative in questi anni, cioè la paura di fermare con altre iniziative questa legge. Una diversa fiscalità, diceva qualcuno, sarebbe molto importante che una legge, un'ipotetica legge nazionale, come è noto la materia della fiscalità e di competenza dello Stato, è solo lo Stato che può toccarlo. Però io ricordo qualche anno fa un dibattito che c'è stato intorno a una proposta a Realacci di aumentare gli oneri di urbanizzazione per le previsioni di edificazione di nuovi suoli agricoli, che affrontava il tema solo dal punto di vista appunto di distribuire, cioè di alzare quegli oneri e di distribuirli in modo diverso. E non considerava i costi indiretti però di quelle operazioni. Quindi è un tema delicato questo. Non siamo in Germania, non è così semplice prendere il modello di altri paesi e portarlo da noi, credo sia un pochino più complesso. Non dimentichiamoci che nel frattempo sono fortemente cambiate, si sono un po' liquefatte le strutture che applicano i quadri legislativi ai diversi livelli territoriali delle nostre istituzioni. Nel senso che quelli che erano un tempo uffici tecnici in grado di redigere dei piani urbanistici, di governare dei sistemi appunto legislativi e di piano a livello regionale, eccetera, sono stati fortemente indeboliti. Nei piccoli comuni, quando va bene, c'è un geometra a tempo parziale che si occupa delle questioni urbanistiche ed edilizie insieme, opere pubbliche e tutto il resto. Nei grandi comuni, più delle volte, abbiamo dirigenti a tempo determinato nominati con lo spoil system. È inutile dire che sono, insomma, diciamo in qualche modo ricattabili per avere il rinnovo del loro incarico alla scadenza dell'amministrazione. Le province, se detto, nelle regioni le strutture sono state via via indebolite. Io qualche anno fa, come dire con sorpresa, la regione toscana non ha una situazione ideale ma ancora alcune decine di persone che seguono la pianificazione. Ho scoperto che in regione Emilia-Romagna erano in tutto sette persone che seguivano il governo del territorio, pianificazione territoriale e il paesaggio per tutta la regione. Con questi numeri, con queste strutture, è davvero difficile pensare di governare l'interesse collettivo su un territorio, meno che meno controllare, come ipotizzava in precedenza, Moccia. Eppure, proprio in questo momento, qui oggi, nel dibattito odierno, mi sembra sia venuto fuori un appello a riscoprire in qualche modo la pianificazione nell'interesse pubblico. Io direi nell'interesse collettivo, più che del pubblico, che può essere inteso come quello dell'ente pubblico. E questo significa riscoprire, ad esempio, insieme, che cosa è negoziabile e che cosa no. Come diri, paletti anche alla negoziabilità delle previsioni. Significa riscoprire che l'argomentazione pubblica delle scelte, in base a una presa in conto adeguata delle conoscenze disponibili e pertinenti, non solo importante, è fondamentale, se vogliamo in qualche modo assicurarci tutti un futuro, scoprire che è fondamentale farlo sulla base anche, che queste conoscenze devono comprendere cartografie, georeferenziazioni adeguate dei territori di cui si parla e, come dire, degli scenari che prevedono l'inserimento delle trasformazioni, come dire, in gioco rispetto a quei territori, che forse può consentire anche quella valutazione ex ante ed ex post delle scelte che da noi di fatto non c'è mai stata. Quelle cartografie possono anche consentire, forse, una partecipazione più informata degli abitanti alle scelte collettive. Qualcuno oggi ricordava il fatto che il codice degli appalti finalmente introduce in Italia il debat public come grande innovazione, venendo da una regione, la Toscana, che aveva la previsione obbligatoria del debat public per le grandi opere da diversi anni, da due legislature, che non l'ha applicata proprio quando sono state in discussione le opere più rilevanti, ho qualche dubbio che possa davvero cambiare gli scenari delle decisioni pubbliche in Italia. Più modestamente con la legge toscana sul governo del territorio abbiamo inserito nella procedura di pianificazione la partecipazione degli abitanti come momento obbligatorio per cui il comune all'inizio del percorso deve dire quando, dove, grossomodo come, coinvolgerà i propri abitanti nel percorso di redazione del piano. Ho sentito anche dire che, appunto, c'è un problema con le previsioni urbanistiche non stralciabili. Ecco, rispetto a progetti di legge come quello dell'Emilia-Romagna, attualmente in discussione, che prevedono l'eliminazione del doppio livello di pianificazione, piano strutturale, piano operativo, ricordo che il doppio livello era stato introdotto, peraltro, su proposta dell'INU all'epoca, mentre oggi l'INU sembra passato, almeno sembra in parte, alla nuova posizione, proprio perché questo doppio livello consentiva in qualche modo di lavorare più agevolmente nel rivedere previsioni pregresse, ma non operative, quindi non capaci di generare un introito fiscale per i comuni e quindi, come dire, anche un'aspettativa legittimamente, come dire, appoggiabile del privato proprietario su questo. In effetti la Toscana, da questo punto di vista, è abbastanza ricca di esempi per cui allo scadere del piano operativo quinquennale, con una procedura di valutazione molto attenta delle scelte che deve legittimare perché le stralcio, ha portato a stralciare diverse previsioni non attuate dal futuro piano. Un esempio, ho visto impegnato anche Alberto Nagnaghi, proprio con un processo partecipativo con gli abitanti, per cui, come dire, per legittimare ulteriormente lo stralcio di alcune previsioni, si sono fatte tutta una serie di incontri partecipati, di progettazione proprio partecipata con le cartografie, senza che ci siano stati poi i ricorsi, altarne possibilità, appunto, per i privati di rivalersi su tutto questo. Da questo punto di vista i piani paesaggistici danno, appunto, il combinato disposto da delle possibilità ulteriori perché, come è noto, la tutela del paesaggio, appunto, è alle spalle, diciamo, più forti anche dal punto di vista normativo. Ci sarebbero molte, molte altre cose da dire, nuove priorità. È chiaro che lo scenario di riferimento è quello di territori, di riuscire a mantenere territori abitabili rispetto a prospettive di cambiamento climatico ed economico sempre più incerte e preoccupanti. Da questo punto di vista credo che la pianificazione debba porsi anche nuove domande. Chiaramente una è legata al territorio agricolo. Come interagire col territorio agricolo? Ricordo che fino a qualche anno fa i piani si limitavano a classificare le caratteristiche socio-economiche delle aziende agricole per definire quali territori agricoli erano più o meno facilmente erodibili dalle previsioni di nuova urbanizzazione. Sembra il place to cene rispetto ai discorsi che si fanno oggi. Chiaramente, però, servirebbe anche un progetto per quei territori abbandonati, appunto, lasciati all'incolto, eccetera, dove appunto le boscaglie crescono moltissimo. Per affrontare questo tipo di argomenti, però, sarebbe fondamentale l'integrazione delle politiche, l'integrazione fra politiche settoriali e fra politiche promosse dai diversi livelli territoriali istituzionali, naturalmente, e servirebbe un discorso politico diverso da quello attuale, nel quale queste questioni tornino a essere centrali, a occupare un ruolo centrale. Perché io ho apprezzato qui oggi l'intervento di De Rosa, che ovviamente non sarà più in sala, però poi, se sento i discorsi politici, anche di quella parte politica, queste questioni non sono esattamente centrali. Invece, forse servirebbe che tornassero a occupare un ruolo centrale, quale un tempo, alcuni decenni fa, avevano, per tutti noi, per tutti coloro comunque che facevano politica. E infine, credo che serva, rispetto a questi scenari futuri, il recupero più in generale, dal punto di vista culturale, un recupero della coscienza di luogo, con questo bel termine, inventato da Giacomo Beccattini, un economista, mancato di recente, a fronte del fatto che i territori consumati generalmente si presentano come luoghi, come luoghi nei quali la qualità non è particolarmente elevata. Grazie della pazienza di avermi ascoltato.